Il primo maltempo di autunno, le prime serie mareggiate stanno mettendo a serio rischio la costa abruzzese da nord a sud della nostra regione, dal Terramano alla provincia di Pescara fino alla provincia di Chieti. Balneatori preoccupati perché l'erosione della costa ha praticamente cancellato interi tratti di spiaggia. Qui siamo a Francavilla al Mare dove i balneatori chiedono che venga attuato al più presto il progetto dei pennelli finanziato dalla regione Abruzzo che però non è ancora partito. Sentiamo le loro opinioni e le loro richieste. Siamo venuti a conoscenza che un mese fa è stata aggiudicata la ditta appaltante, la ditta tenaglia di Casoli per la costruzione e la messa in opera del progetto. Noi chiediamo all'amministrazione comunale di Francavilla e a tutte le amministrazioni del territorio abruzzese dove ci sono progetti in essere pronti, cantierati, appaltati e approvati di iniziare subito con ladenti a ridosso delle infrastrutture per consentire alle medesime strutture di non subire ulteriori danni. Dall'anno prossimo incominciamo a presentare un progetto innovativo, la manutenzione delle coste. Noi siamo in grado, noi titolari delle imprese balneari, di organizzarci. L'anno scorso la stagione balneare, soprattutto nella zona nord, ma non solo è partita con molto ritardo, con un ripascimento in extremis. Quest'anno si rischia di tornare di nuovo, se non peggio, nelle condizioni passate. Sì, purtroppo questo problema esiste per i tiani e non solo al nord. Da precisare appunto che anche il centro e il sud appunto stanno in condizioni quasi identiche. Qua purtroppo le mariggiate abbiamo la Liguria sotto occhio, in questo periodo appunto che sta scomparendo quasi. Quindi non vorremmo fare la stessa fine, quindi vorremmo che la politica si desse da fare. Alle preoccupazioni dei balneatori risponde il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. In verità dal punto di vista amministrativo è stato fatto tutto, ora bisogna partire. Per partire la ditta ha diritto a ricevere il 20% della somma appaltata in anticipo, prima dell'inizio dei lavori. E qui la mara sorpresa, il fatto che la regione ci comunica solo in questi giorni che in verità le somme sono disponibili dal 2019. Abbiamo stabilito un sopralluogo e sto facendo di tutto affinché anche l'impresa sia disponibile a partire con il cantiere, nonostante questa brutta notizia ricevuta dalla regione Abruzzo. Se dovessero partire immediatamente o a breve i lavori, quando termineranno? Diciamo a tempo bello e mare calmo tre mesi finirebbero i lavori, sicuramente dureranno qualcosa in più a causa delle condizioni del mare, però insomma arriveremo ampiamente prima della primavera prossima.